Cari amici vicini e lontani, bentornati. Abbiamo pubblicato su Rumble la conferenza tenuta da Walter Pansini, giornalista e presidente dell'associazione Alistair, assieme al dottor Fabio Franchi, ricercatore scientifico e la presentatrice radio web Ornella Bonetta. L'oggetto della conferenza non si può dire perché rischieremmo di essere censurati da questa piattaforma. Il video è diviso in quattro parti. La prima parte della conferenza tenuta da Walter Pansini, la seconda dal dottor Fabio Franchi, la terza parte dalla Ornella Bonetta e relativa conclusione dell'intervento. Il quarto video invece è quello integrale. I numeri sono contraddistinti dal 601, 602, 603, 604. Per accedere alla piattaforma Rumble, lo potete fare o dalla stessa piattaforma canale Carlos59, ripeto Carlos59, oppure nei link riportati nelle descrizioni. Vi raccomando di mettere un mi piace e di condividere il nostro lavoro. Buona visione!